Ecco qua siamo qua al Papelon Club, siamo qua con un grande tifoso dell'Afragolese, con Stefano, grande Stefano. Buonasera a tutti, a tutti i telespettatori di sport avendo una trasmissione molto seguita soprattutto da Fragola perché Mario Fantaccione e Peppe La Rosa sono stimatissimi ad Afragola per l'appoggio che hanno dato a questa grande tifoseria non perché sono uno degli esponenti ma è una grande tifoseria che merita atti a Parcosceni. Ecco qua, quindi ringraziamo il grande Stefano Morcci alla verità perché oggi abbiamo avuto dei complimenti con il mio pensamento, lo voglio dire anche a Mario Fantaccione che è qua con noi al Papelon Club davvero abbiamo fatto avere visibilità alla Fragolese. Io spero solo che quest'anno continua l'annata positiva, un'altra annata positiva però le cose non sono tanto belle viste in questo momento da Fragola speriamo che cambia un po' il vento e inizia a girare a favore nostra. Ok, grazie Stefano, Sport Event sempre qua presente a Paolo Club. Forza Fragolese.